A tutte e innanzitutto a tutti, sono felicissima di essere qui, sono felicissima e onorata di essere qui, ringrazio il tavolo della presidenza, ringrazio in particolar modo Paola per avermi invitato e voluto. Il mio intervento si intitola Artiste e Intelligenza Artificiale. In questo intervento partirò da alcune immagini dell'ultima opera di Angela Fusiello, una artista emergente che mi conduce a pormi questa domanda che coinvolge arte e scienza. La tecnologia e l'intelligenza artificiale in particolare possono avere una funzione emancipatoria o quella di asservimento alla visione della pittura tradizionale. Credo che l'arte possa offrire delle importanti risposte e potremo vederle insieme attraverso le cinque artiste che prenderò in considerazione di cui vedrete nello slide alcune opere. Quando ci riferiamo all'intelligenza artificiale, stiamo considerando la presenza di un comportamento definibile intelligente all'interno di una macchina. Già alla base si trovano delle condizioni che necessitano di una definizione a partire dal concetto stesso dell'intelligenza, considerando inoltre che quando ci riferiamo alla intelligenza spesso ci riferiamo solo ed esclusivamente alla stessa in quanto sola facoltà umana. Pertanto, di sentire da quanto meno curioso parlarne in relazione alle macchine. Quello che in tal proposito stiamo osservando è quindi un tentativo di applicare le condizioni dell'intelligenza umana alle macchine, non considerando tuttavia che queste costituiscono una alterità e pertanto necessitano di una concezione di intelligenza diversificata da quella umana. Appunto, già Turing, agli albori della questioni della questione differenzia l'intelligenza umana da quella delle macchine, considerando che queste sono in principio mancanti in merito a tutte quelle esperienze, il cibo, il sesso e lo sport, di specifico interesse umano. In tal senso, Luciano Floridi ci dice che attraverso l'intelligenza artificiale stiamo iscrivendo nuove forme dell'agere e non dell'intelligere. A questo punto la domanda resta aperta. Che cos'è l'intelligenza nelle macchine e cosa sono o potrebbero essere le macchine? In questo contesto, che ovviamente ne ritenete ore di discussione, l'arte fa chiaramente la sua parte, rendendosi elemento attivo all'interno del discorso sulla intelligenza artificiale. Se ci facesse un piccolo escursus storico, si noterebbe immediatamente quanto l'argomento abbia, sin dagli albori, toccato profondamente l'interesse dell'arte, degli artisti e delle artiste. D'altronde, nel momento in cui l'arte ha smesso di essere considerata solo artigianato, ma vera e proprio lavoro intellettuale, la possibilità che una macchina potesse possedere un intelletto e di conseguenza avere un potenziale, capacità di creare, ha chiaramente affascinato il mondo dell'arte. Per fare un esempio storico, ci potrete sicuramente, ci dovrete sicuramente citare il contributo di Vera Molnar. L'artista negli anni 60, cofonda diversi gruppi di ricerca creativa. Il primo, nel 1960, è stato il gruppo del research d'art visuale che studia gli approcci collaborativi dell'arte meccanica e cinetica. Il secondo era Art e Informatica con un focus su arte e informatica. Molnar ha imparato i primi linguaggi di programmazione di Fortran e BESIC e ha ottenuto l'accesso ad un computer di un laboratorio di ricerca di Parigi, dove ha iniziato a realizzare, quelli che vedete alle mie spalle, dei disegni di computer grafica su plotter. L'artista stessa, a darci prova di quanto il computer fosse stato considerato già in precedenza, come un oggetto attivo. Ci dice, può sembrare paradossale, ma la macchina, aditata come fredda e inumana, può aiutare a realizzare i nostri pensieri più soggettivi, irraggiungibili e profondamente umani. Come possiamo evincere, dalle parole della vera monarch, i computer per gli artisti e le artiste sono solo alleati creativi, veri e propri punti di domanda in relazione a tutte le questioni, non solo propriamente legate al campo artistico, ma indissolubilmente legati alla esistenza umana. A tal proposito vorrei correre l'attenzione alla relazione esistente tra intelligenza artificiale e il corpo, considerando quest'ultimo da un punto di vista ontologico ed epistemologico. Di fatto, se ci pensiamo bene, cosa ci aspinga a pensare l'intelligenza artificiale, se non un interesse umano nella comprensione del corpo, dell'organismo. Nel corso della storia umana, il corpo ha assunto l'aspetto di uno scrigno contenente l'anima o la mente, un oggetto, un oggetto la cui funzionalità sta nel conservare l'aspetto qualitativamente superiore trascendentalmente dell'esistenza umana, senza che il corpo ne sia in alcun modo parte attiva. Alcune artiste, negli ultimi dieci anni, stanno affrontando la tematica del corpo in relazione alla tecnologia, l'intelligenza artificiale compresa, come la tecnologia non sia solo un argomento che tocca il corpo, ma lo riguarda in tutto e per tutto, considerando che l'essere umano è un ente tecnico e che la tecnologia altro non è che la tecnica potenziata dalla scienza. A tal proposito, inizierei citando un'artista storica come Ito Steyer, che ha incentrato tutta la sua ricerca nel ruolo che i media e la tecnologia hanno in relazione agli esseri umani nell'era della globalizzazione. Appunto Steyer, in The City of Broken Windows, installazione presentata all'ononima mostra a lei dedicata presso il castello di Rivoli a Torino, a cura di Carolyn Christophe Bacher-Bilbo e Mariana Macelio, mette in campo le sue ricerche attorno all'intelligenza artificiale, alle quali viene insegnato a riconoscere il suono delle finestre rotte, una pratica molto usata dalle industrie produttrici di intelligenza artificiale nel campo di sistemi di sorveglianza. L'artista qui si interroga sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella società del controllo, a disposizione di quanto il reale problema non stia specificatamente nella struttura algoritmica di queste tecnologie, piuttosto stia nell'obiettivo di farne dei dispositivi di controllo. E di fatto ormai noto quanto queste tecnologie siano soggette a pregiudizi cognitivi, rivelando un problema fondamentalmente umano. Consideriamo che le macchine rimangono ad ora un prodotto umano. Continuando questo piccolo escursus sulle artiste che stanno trattando l'intelligenza artificiale, ritengo sia assolutamente degno di nota il lavoro di Stefani Dickens. Conversation with Bina48. L'opera si propone come una videoinstallazione multischermo in cui l'artista affronta una conversazione con la robot Bina48. L'artista si trova a vivere la robot come uno specchio attraverso e con il quale vengono poste domande sul futuro e un attento esame alla codificazione di storie sociali, culturali e future, alla intersezione di tecnologia, razza, genere ed equità sociale. Scusa, è un discorso molto complesso. Allora dall'opera di Stefani Dickens passo all'opera di Sofia Crespo. L'opera di Sofia Crespo, che è una giovane artista, si basa sulla teoria di Donna Haraway, capo scuola della teoria cyborg, sulla branca, una branca del pensiero femminista che studia il rapporto tra scienza e identità di genere. Il pensiero di Haraway è fondato sullo studio delle implicazioni della tecnologia e della scienza sulla vita degli esseri umani moderni. Secondo la studiosa statunitense, la cultura occidentale è sempre stata caratterizzata da una struttura binaria, ruotante intorno a coppie di categorie, come uomo, donna, natura e artificiale, corpo e mente. Sofia Crespo costruisce ibridazioni, quelle che vedete alle mie spalle. costruisce ibridazioni attraverso l'uso di reti neurali con le quali costituisce rapporti curiosi, quanto affascinanti, tra culture marine, volatili, piante ed altri elementi naturali. L'ultimo lavoro su cui mi soffermo per chiudere è il lavoro di Mary Magic, Molecular Queering Agency del 2017. Mary Magic attraverso il suo lavoro ci mostra quali possibilità abbiamo di emanciparci attraverso il nostro stesso organismo e le tecnologie fatte per lo stesso, considerando inoltre quanto l'uso dell'intelligenza artificiale in campo genomico possa costituire anche il rischio di un ritorno a terrificanti politiche euro-eugenetiche. Appunto l'intelligenza artificiale, per come è stata strutturata dalle industrie produttrici, tende molto facilmente ad assorbire i prejudizi cognitivi fondamentalmente umani. In conclusione vorrei dire che quanto mi spinge a ricercare nel campo dell'intelligenza artificiale è il fatto che questa costituisca di per sé una alterità e che in virtù di questo suo essere radicalmente aliena mi appare come uno strumento potenzialmente emancipatore. Grazie.